Oh oh, è caduto! Ciao! Ciao! Cosa fai tu per l'Antoniano? Faccio i suoni E per l'aggecchino d'oro? Altrettanto faccio sentire la luce dei bimbi Ma tu chi sei? Io mi chiamo Enzo Io sono telecamera Ciao telecamera! Ciao! Ciao! Fammi vedere i mix Sei sicuro? Sì! Dai, vieni a vedere Vieni qua, guarda qua quante lucine che ci sono E quanti cursori, guarda Vuoi toccarne uno? Sì! Prova a tirare su questo Vai, vai, tira su Segui lo zecchino d'oro dal 20 al 24 novembre su Rai 1 Segui lo zecchino d'oro dal 20 al 24 novembre su Rai 1 Prova a fare questo qua, guarda Tira giù questo Segui lo zecchino d'oro dal 20 al 24 novembre su Rai 1 Tira su, tira su, vai! Grazie! Ciao! 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 Io sono telecamera e passo il tempo girando all'Antognano Ciao! 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 Ciao!